Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come non crashare più sulla way out ovviamente crasha il gioco senza neanche che esce una notifica e si chiude pure il launcher ok quindi in questo caso in questo tutorial di pochi minuti ti spiego come risolvere il problema quindi proveremo a risolverlo andando direttamente sulla modifica delle impostazioni del sistema aggiungendo queste variabili il nome e il valore della variabile quindi in questo caso vai sulla barra di ricerca pannello di controllo andiamo a scrivere size stem visualizza impostazioni di sistema avanzate variabili d'ambiente e andiamo a mettere nuova nome variabile mettete questo e come valore variabile mettete quest'altro ok e fate incolla e fate ok una volta fatto fate ok chiudete tutto e riavviate così il vostro sistema operativo quindi se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e se hai problemi commenta e vediamo con un'altra soluzione quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao